Puntata di G-Style dedicata anche ad uno dei locali nuovi che sono usciti in scena da poco, il New Tite a San Buceto, un club molto bello, molto accogliente, che vi permetterà di essere così coinvolti con numerose serate, dalla musica dal vivo agli anni 70, a quello che è il classico appuntamento da discoteca il sabato, ma la domenica io vi aspetto in maniera personale, particolare, perché ogni domenica dalle 21.30 giocheremo un po' insieme, faremo animazione, saremo pronti a rendere una serata diversa dalle altre, con il coinvolgimento di tutti quanti, con un karaoke tradizionale, ma anche con tanta musica dal vivo e musica 70, 80, unita anche alla pizzica e alla taranta, quindi ci rivolgiamo anche ad un pubblico universitario che sicuramente accoglierà il nostro invito al New Tite, ovviamente a San Buceto.